Ma poi il caldo prima o poi finirà, sì che finirà questo caldo, ma nonostante tutto questo caldo io ho i muffi che mi sudano ragazzi, credetemi, oggi ho preparato questi muffin buonissimi con una glassa al limone profumatissima. L'ingrediente principale come vedete sono le carote che stavano lì in frigorifero mosciate, un po' nerite, quindi ho tolto la parte più brutta e ho preso quelle che avevo, le ho messe in un frullatore e insieme a tutti gli altri ingredienti. Anche perché sì, bene o male mi va di cucinare, di accendere il forno, ma poi non ho voglia di pulire, ecco, e quindi cerco di sporcare il meno possibile. Non so se voi fate la stessa cosa, ma io faccio così, vedete, 2, 4, 6, 8, 10, 12, due stampi diversi, 12 muffin, o chiamateli come vi pare, alle carote straordinariamente buoni, devo dire che sono buoni anche senza glassa, ma con questa glassa di zucchero a velo e limone raggiungono davvero il top. E poi niente, ho suonato il campanello di Franca perché 12, mi li potevo mangiare tutti sì, ma forse erano troppi, che ne dite allora? Ho suonato il campanello. Ho suonato il campanello. Ho suonato il campanello.